venditalia 2022 continua diamo il benvenuto a un nuovo attore nella scena del vending italiano si chiama product and service un'azienda tutta italiana e oggi abbiamo qui con noi giulia ai raghi la product manager dell'azienda giulia benvenuta grazie fabio ciao buongiorno a tutti io dicevo un nuovo attore della scena italiana del vending perché in realtà sappiamo bene che negli ultimi quattro anni non c'è stato un modo fieristico per andare a dialogare e presentarsi al popolo del vending che cos'è product and service allora la product and service è un'azienda che nasce ormai da 30 anni ha creato da poco un nuovo marchio che si chiama mister retail e va ad identificare tutte quelle che sono le soluzioni per il mercato del retail quindi abbiamo diverse diversi prodotti a seconda delle esigenze del mercato di oggi e delle assolute poi novità proprio del mercato del vending una di quelle più importanti si trova alle nostre spalle esattamente fabio alle nostre spalle abbiamo un frigorifero intelligente si chiama self life store è un innovativo format nel mercato del vending e del retail dove l'utente si identifica acquista con una carta di credito con una tessera privativa o con tutti quei sistemi alternativi bancari google pay satis pay apple pay eccetera eccetera ritira il prodotto e gli viene scalato in tempo reale quello che viene scelto dall'utente in modo assolutamente semplice e senza complicazioni lo vediamo poco fa proprio mentre tu ne parlavi come sta andando questa proposta al mercato allora c'è un grande interesse per la soluzione devo dire che finalmente dopo quattro anni fabio come dicevi c'è la possibilità di far notare anche queste nuove innovazioni queste nuove soluzioni al mercato e devo dire che siamo molto contenti bene e allora non dimentichiamo che product service dispone anche di altre cose da fornire ai gestori italiani e non solo gestori perché il vostro target è molto più allargato esatto noi ci affacciamo a quello non solo ai gestori del vending ma anche a produttori di cibi pronti quindi aziende ma anche a tutti quelli che sono gli utenti finali quindi aziende vere e proprie che vogliono dare dei servizi ai loro dipendenti piuttosto che effettivamente uffici strutture ricettive ma anche ambienti sportivi Giulia il futuro del vending è qui esattamente e allora molte grazie per il prezioso contributo se è stata breve coincisa e sono assolutamente certo che chi guarda l'intervista un pensierino ce lo fa e poi per scrivervi qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui scrivere senza alcun impegno ok grazie mille fabio per l'opportunità per qualsiasi informazione potete scriverci sull'email g.airaghi-misterretail.it oppure venirci a trovare sul sito web www.misterretail.it dove potrete scoprire tante altre piccole primizie dedicate proprio alla vendita indoor Giulia grazie grazie mille fabio a voi grazie grazie a voi